Buongiorno da Cucina Bievolutiva! Oggi prepareremo un'insalata crudista igienista perfetta per chi già non usa più olio e sale. Il condimento infatti sarà una deliziosa crema di mele e pistacchi. Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre un frullatore. Vediamo ora gli ingredienti per due porzioni. 200 g di cicoria, una mela golden, 20 g di pistacchi non tostati, questo prodotto lo potete trovare nel sito di cibo crudo. Mezzo spicchio d'aglio privato dell'eventuale germoglio interno, una o due coste di sedano. Passiamo alla preparazione. Dopo aver lavato e asciugato la cicoria prepariamo subito il condimento frullando la mela e i pistacchi. Creiamo un letto con il composto direttamente sul piatto, aggiungiamo la cicoria, il sedano tagliato ad archetti e qualche pezzetto d'aglio. Bene, l'insalata di cicoria con patè di mele e pistacchi è pronta. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!